Mi chiedete perché sono venuto ad After, potrei farvi mille giri di domande e di risposte sull'importanza delle reti, delle tecnologie, nulla di tutto questo, perché è un posto e un luogo dove centinaia di persone si vedono in carne ed ossa per discutere di futuro, ecco il motivo per cui io ci sono venuto.